Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori caschi per bici. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con il casco per bici di Shinmax. Il Shinmax è un casco versatile e sicuro progettato per gli avanti delle attività all'aria aperta come il ciclismo, lo skateboard, lo sci e lo snowboard. Questo casco è certificato secondo gli standard di sicurezza CE ovviamente, il che significa che è stato sottoposto a rigorosi test per garantire la massima protezione e sicurezza durante l'utilizzo. Il casco è dotato di una luce di led posizionata sul retro per migliorare la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione. La luce dead può essere facilmente accesa o spenta tramite un pulsante sul casco. Questo casco è anche dotato di una visiera magnetica staccabile che offre protezione dagli agenti atmosferici come il sole, la pioggia o il vento. Può essere facilmente rimossa o installata grazie al sistema di fissaggio permettendo una rapida regolazione durante l'utilizzo. Questo casco è anche realizzato con materiali leggeri e traspiranti che offrono comfort durante le attività sportive. La ventilazione integrata favorisce la circolazione dell'aria mantenendo la testa fresca e asciutta anche durante le giornate più calde. Il casco Shinmax è adatto per una varietà di attività all'aperto come il ciclismo, lo skateboard eccetera. È progettato per adattarsi alla testa degli adulti grazie al sistema di regolazione della circonferenza che consente una vestibilità sicura e personalizzata. Poi troviamo il casco Uvex che è un casco tuttofare, leggero e unisex progettato per offrire comfort, sicurezza e versatilità durante le attività all'aperto. Questo casco è realizzato con materiali leggeri che offrono sensazione di leggerezza e comfort durante l'utilizzo. Il suo design aerodinamico riduce la resistenza al vento consentendo una guida più fluida e confortevole. Il casco Uvex è dotato di un sistema di regolazione che consente di adattare la misura del casco in base alla sua testa, ciò assicura una vestibilità sicura e personalizzata per una maggiore comodità. Questo casco offre la possibilità di essere ampliato con una luce led opzionale. La luce led può essere facilmente montata sulla parte posteriore del casco migliorando la visibilità durante la guida notturna. L'Uvex è anche dotato di un sistema di ventilazione efficace che favorisce la circolazione dell'aria all'interno del casco. Questo aiuta a prevenire il surriscaldamento e l'accumulo di sudore. Il casco offre anche una protezione affidabile per la testa durante le attività all'aperto e conforme agli standard di sicurezza e soddisfa i requisiti di sicurezza per la bicicletta, il pattinaggio e altri sport simili. E per finire ecco il casco Thousand che è un casco un po' più originale. Questo casco da bici è un casco molto interessante, elegante e sicuro progettato per offrire stile e protezione durante le attività all'aperto come ciclismo, skateboard ecc. Questo casco è ovviamente certificato per la sicurezza secondo gli standard di sicurezza, ciò garantisce che il casco offra una protezione affidabile per la testa durante l'utilizzo. Il casco della collezione Heritage di Thousand si distingue per il suo design vintage unico, i dettagli curati come la finitura in pelle vegan sulla parte superiore conferiscono al casco un aspetto raffinato e distintivo. Questo casco è dotato di un sistema di chiusura magnetica feedlock che rende facile e veloce l'apertura e la chiusura del casco con una sola mano. Questo sistema garantisce una vestibilità sicura e comoda. Il casco Thousand è dotato di prese d'aria integrate che favoriscono una buona ventilazione durante l'utilizzo. L'interno del casco è dotato di un'imbotitatura morbida e confortevole che assorbe l'umidità e offre un'esperienza di indosamento comoda. L'imbotitura è rimovibile e lavabile consentendo una facile pulizia. Infine il casco Thousand offre una regolazione della taglia per una vestibilità personalizzata. È possibile regolare il casco per adattarlo alle dimensioni della testa. Ecco grazie per aver seguito questo video, spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link ai prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.